E bella a tutti ragazzi ed eccoci trovati qua in un nuovo video Oggi siamo qua nella carriera giocatore Ragazzi Avevo aspettato abbastanza tempo Cioè molto tempo Per fare questa carriera E oggi saremo qua insieme a decidere la squadra in cui andare Io direi di andare in una squadra scarsa Ma proprio scarsa scarsa Perché? Vi spiego subito il perché Almeno posso Come si può dire? Posso Allora Riformulo Posso Tirare i rigori e le punizioni Quindi Mi ha ispirato questa squadra qua Proviamo Vabbè GG Andiamo Yes Allora La nominiamo Giocatore Due Perché la prima l'avevo già fatta Per conto mio Ho notato che ci si allena molto Ma molto velocemente E questa cosa E' molto bella Mi piace Voto di essi Ok Prendiamo questa affare Ok Sì 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 Poi dobbiamo Passare tutti Alleniamoci tutto sul tiro Capito? Ok Allora Siamo in panchina What? Perché? What? Leggero Ok Tutti leggeri Se no ingrassa troppo Allora Comunque nella veloci Nella La modalità Carriera Giocatore Portiere Si avanza Molto più velocemente Ma molto più velocemente Cioè io so già 91 In una In una carriera Che avevo fatto So già 91 Vabbè Facciamo il nostro Debutto Ah E non vi ho fatto vedere Il mio personaggio Ma L'ho creato Off camera Con piede sinistro Anche se io son destro Perché mi piace troppo Giocare col sinistro Cioè su FIFA Ma in realtà Faccio veramente Schifo Col sinistro Passamela Ok Ma dai Il passeggio Di schifo Mi ha fatto Quello là Ma è colpa mia Vabbè Io boh Eh Là ci dovevo Essere io Ok Bello GG Per il mio compagno Pensavo Non ho preso male Pensavo Uscivo di già Ho giocato 5 minuti Ma io dovrei stare Dall'altra parte Come me sono qua Madonna santa Devo migliorare Ci andiamo Andiamo sulla fascia Non riesce a chiudere Abbiamo fatto Veramente schifo E siamo stati Veramente Molto Troppo Egoisti Non l'abbiamo Voluta passare Però ci ho provato Ok Ok C'è la mia mamma Qua eravamo Rimasti 1 a 0 Ok Passo Sì Ma era passata Quella avanti Mica quella Di lato Che è Oh Ma che è Oh Era di nuovo Mia madre Mamma mia Che squadra Di mezza stella C'è Io guardo Io non c'ho parole Di mezza stella E stiamo vincendo 2 a 0 Ma dai Il nome Non si può leggere Però Drogheda Si droga tutta Sto squadra Non io Non io Non io Vorrei Precili Precizza Precizza Avete capito Io vedo le palle Ok Ma passano Palla regalata Smella 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 Ecco Smella Ecco La mantieni La posizione E se Non me la passano Però io Sono Io Io E non la passo Manco io Vado Sì Però faccio schifo Sono egoista Sono uno schifo Sono Sono un bastardo Confermate Scrivete sì Nella Nei commenti Se confermate Io scriverei sì Oh bellissimo Passamela Passamela Smella Smella Mamma mia Che Un po' tanto Lungo Tiro Che Gol Guardate che Esultanza Ho messo Pan Segno Anche Qui Bellissimo Mi è piaciuto Mi è piaciuto Pan Al debutto Golaso Di Thomas Giada No 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 Non vale Siamo entrati Negli ultimi Cinque minuti Di gara Sono un bambino Di due anni Mamma mia No Non me la passare Ora sì Ok Pam Che schifo Che schifo Tirato una pera Che chifo Fatto veramente Chifo Ai pollici Chi Foi pollici Ok Abbiamo Finito La partita Vinta 3 a 0 Benissimissimo Benissimissimo 8.8 Per me E migliore In campo E sono titolare Mamma mia Ok Bene 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 Io direi di fare L'ultima partita Credite Ah Sono il migliore In questa squadra Sono 69 E quello là Mi voleva Mi ha messo in panchina Veramente Scioccato Passa a me la palla Passala Dai Madonna Vorrei la fascia Di capitano Please 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 Faccio schifo Sono egoista Perché non la passo Sta cavolo di palla Ok Oddio 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 Cosa stava uscendo Passamela a me Tiro A giro Non ci credo Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Madonna Oh madonna Oh madonna Della carriera allenatore Se non l'avete vista andatevelo a vedere Mi raccomando Siamo arrivati al terzo episodio Ovviamente guardatele tutte e tre Non c'è bisogno che ve lo dicchia Oh madonna Sì però non è possibile Stare così male Questa Ah scrivete Sentemi sotto nei commenti Se avete fatto tutte e due le dosi del vaccino Così A caso Però dato che stamattina l'ho fatta Ho fatto ora Ho fatto la seconda Vorrei sapere I miei iscritti A quanto Se l'hanno fatto o no Ecco Madonna Ragazzi andate a pensare Però Non è che devo andare io Io aspetto qua Bella ripresa era No l'avevo passata Non ci vedo Occhio all'avanzata Oh ma c'è sto qua Basta Ora vai e inizio a falli pure io Sono rotto Madonna 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 Santa Si entrava A sto Tiro qua Ci ho provato Ci ho provato Era probabilissimo Che non ce la facessi Però ho provato Ho detto così Bam Tiro Verbosa Quella era che era nell'Inter Spero di no Ma credo proprio di no Buono il contrasto Buono il contrasto Se quel pallone fosse Oh Madonna Eh Sono stati guai Fossero stati guai Fossero stati guai Ero più contento Ok Nostra 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 Bellissimo Inizio a uccidere tutti To To Non l'ho preso Aia To La donna se lo prendeva era a rigore Sentirei Mi sentivo troppo in colpa Perché a me Questo è un basso come Un Un tappeto Delle immondizie Non so cosa ho detto Dai però Non è possibile Non è possibile Che è per sciagli Nananananana Nananananana Nanananana Vabbè Il nostro goal Ce l'abbiamo fatta farlo sono contento io direi che verso il 75esimo minuto in dol cambio perché mi voglio un pochino dice se no sono troppo stanco per la prossima partita ecco sto correndo da tutta la fascia tutte e due le fasce vado in difesa tutto e infatti guardate sono stanchissimo si abbassa per ricevere raga domani poi arriverà il nuovo episodio l'episodio 2 di questa serie ma donna santa ora l'ha uccise mio compagno ti faccio il gol per te non è vero mi dispiace compagno te lo uccido per te questo non so fare non c'è un coltello su fifa passamela a me ma ti puzza il mignolo del piede ma che è oh madonna sembra dovevi do prima mamma ah inizieranno i video su clash royale sono avanzato un botto l'ultima volta mi sembra che avevo 3.000 coppe ora ce n'ho 5.100 e qualcosa quindi ho potenziato un botto le mie carte e e basta sono arrivato a livello del re 11 mamma mia e comunque il match di arresto apertissimo e se fossero andati sul più due avrebbero poi rischiato di prendere largo 9.6 oh si è bugato voglio fare in alto a destra guardate è 10 poi 9,7 10 9,7 10 9,7 10 avete capito basta dai non è più veloce di me non è più veloce di me non è più veloce di me madonna madonna schien kraken wagen raga chiedo il cambio finisce stazione e chiedo il cambio era bella era bella però c'era sto figliolo che non si ficca un po' pigro questo un ditino nel culetto nel sederino si ma la prendevi sta cavolo di palla bravi 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 bella 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 mannaggia ai fagioli dai però non è possibile dobbiamo resistere dai ok butta via sta palla bene a questo punto me la finisco tutta non so se per la prossima partita e non so se la prossima partita la giocherò perché sono troppo stanco vada la dai no 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 dai ok bene è nostra calcio d'angolo sono sul palo perché mi sono fatto troppo che piccoletto corro sulla palla passamela 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 ma perché che è questo è razzismo buttala via buttala via ok 1 a 0 vittoria con gol mio spettacolare anzi lo voglio anche rivedere questo gol eccolo raga questo è stato molto bello questo è stato bellissimo mi è piaciuto molto e questa squadra contro questa squadra che abbiamo giocato contro era non è una di quelle di mezza stellina come siamo noi oh ci possiamo migliorare bene 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 e bene ovviamente sempre tiri allora bene mi fa ora almeno 70 è la madonna però mi alleno l'ultima volta e poi ci possiamo salutare ci vediamo ad un prossimo video iscrivetevi e mettete like e ciao ciao